Il bello della diversità. Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. 3 dicembre 2020. Non camminare davanti a me. Potrei non seguirti. Non camminare dietro di me. Non saprei dove condurti. Cammina al mio fianco e saremo sempre amici. Albert Camus La coccinella senza pallini Passeggiava in mezzo a un prato Nella, quando all'improvviso scorso un'altra coccinella. Come ti chiami? chiese Nella interessata. Mi chiamo Cocci e sono tanto disperata. Perché hai tanto abbattimento? Perché non ho macchie nere come abbellimento. Senza pallini neri? Io sono nata. E con le altre concinelle mi sento imbarazzata. Anche senza pallini tu rimani bella, disse sorridendo la cara e dolcenella. Ma se proprio vuoi i pallini, non ti preoccupare. Insieme passo passo li andremo a cercare. Raggiunsero un fungo le due coccinelle. Guarda queste macchie quanto sono belle. Son pallini bianchi, ma son così perfetti che staranno molto bene se addosso te li metti. In mezzo al prato trovarono un pistacchio. Ecco, guarda qui, questo ti piacerà parecchio. È vero, è proprio bello e mi donerà sicuramente, disse Cocci volando allegramente. Dietro a un cespuglio c'era una bambina che giocava lì vicino e si chiamava Nina. Cos'hai sulla faccia? Le chiese allora Nella. Ho avuto il morbillo, mia cara Coccinella. Che bei puntini rossi! Ma ne hai due per favore? Certo, Coccinella, te li do con tutto il cuore. Camminando, camminando, trovarono un dolcetto. Il candito che è lì sopra, a me sembra perfetto. Ne prenderò uno da appiccicarmi sulla schiena, così di bei pallini sembrerò più piena. Alla fine, la Coccinella capì la sua lezione. Anche così era bella. Mamma che emozione! Anche con quei pallini poteva essere amata, perché diversa dalle altre, ad esserla più ammirata. Alla Coccinella Cocci, che ci ha insegnato la bellezza di essere unici e diversi, gli uni dagli altri. I disegni dei bimbi della sezione E Se fossimo tutti uguali sarebbe una noia! Anche se siamo diversi siamo amici! Non possiamo essere tutti uguali! È bellissimo essere tutti diversi! Le Coccinelle dei bimbi della sezione E Tutti siamo speciali! Tutti siamo amici anche se siamo diversi! Tutti siamo amici e ci vogliamo bene! I disegni dei bimbi della sezione G Io, se fossi nei panni di Cocci, non sarei criste, perché essere diversa dagli altri non è una cosa brutta! Ascoltando la storia di Cocci, mi è venuta più voglia di essere più amici! Tutti siamo belli anche se siamo diversi! E' meglio avere tanti amici che ci aiutano! Realizzato dalle sezioni E, I e G Della Scuola dell'Infanzia Arcobaleno Dell'Istituto Comprensivo di Volpiano Grazie a tutti! Grazie a tutti.